Il colonnello, il mio amico che aveva il rapporto di Strenkoff, mi telefonò la mattina dopo e mi disse Strenkoff sta a due metri sotto terra. E così è finita la carriera dell'agente Strenkoff, mentre la carriera dell'onorevole Vienli prosegue perché lui non è più deputato, ma lo hanno messo a dirigere un'agenzia che è in pratica del servizio segreto in tre cose. Si chiama l'agenzia Fattelino, lo sai, quello è lo stato, dell'intelligence, qualcosa del genere. Tutte le cose che dicevano su Scaramella allora, perché vedete la storia mia di Scaramella è molto semplice. Io ho cominciato i lavori della Commissione Mitrochini come un bambino, dicendo ah che bello, adesso con voi comunisti buoni ci sediamo intorno a questo tavolo, la guerra fredda è finita, l'Unione Sovietica è finita, KGB è finito, il procurso è finito, quindi è finito tutto. E' finito anche il tattino comunista italiano fra l'altro. Quindi stiamo parlando del passato. Quale migliore occasione per sederci intorno al tavolo? C'è una conferenza che tale pari dovevo fare. Quale migliore occasione per voi che non avete avuto bad progress perché voi che non avete fatto mai, non avete mai imbarcato l'intero quadro della democrazia, facciamo un grande e bel lavoro insieme e lì non è questione di fare guerra fredda. anche perché poi il Partito Comunista Italiano ha avuto dei problemi gravissimi con il KGB. Il mezzo del PC è stato algariato dal KGB e anzi per le guerre cercarono di farlo fuori in Bulgaria con un consulta che insisteva, lo mandò per forza in Bulgaria, aspetta in Bulgaria, potete andare in Bulgaria. E' bellissima questa. Asato, eh? 1974. E poi me lo raccontava anche la figlia di Pernimè. Cioè, papà, non aveva assolutamente sapere di andare in Bulgaria. Ma il consulto dicevo, tanto fecero che aveva comprato un sacco di cibo, l'ho pizzato. Naturalmente gli fecero trovare il classico autotrailo dietro la curva, in cui morirono tutti tranne lui, quello che mi ha già visto. E Berlinguer, cosa che non si sa, fu, su sua propria richiesta, recuperato a distante con l'azione di comando dei servizi segreti italiani, che non era il sismice, era il SID, perché si presentò un gruppo di valorosi a mano armata che piombò, come James Bond, sull'ospedale nei vintorni di Sofia, dove avevano ricoverato il compagno di Berlinguer, se lo impacchettarono e lo riportarono in Italia, perché se no andavano sistenato. Quindi, di lì, il mio atteggiamento infantile del primo anno e mezzo, perché io c'erano la sala di Tentanino che fecero subito, di fare un'operazione tipo scaramella, uguale e precisa, ma però ve l'ho raccontato, anche l'operazione Zag, quando io stavo in America con la mia moglie e i bambini stavano a casa del mio socio che stava già male e poi si è morto di cancro. Un anno dopo ero inseguito quotidianamente dalle telefonate di questo detenuto Zagami, Vincenzo Zagami detenuto in un carcere francese, il quale mi faceva dei racconti strabilianti, meravigliosi, su come i soldi di Teleton Serbia, che lui, Zagami, aveva portato come agente segreto con il falcon della Presidenza del Consiglio, con un giro, e poi erano stabiliti sotto la scaletta dell'aereo dei sei pacchi di un miliardo lungo in valuta a Fassino e a un certo onorevole Barbieri. era ovvio che era una patacca, era una provocazione e che volevano spingermi a scrivere questa cosa e poi saltarmi alla nuova. E' una legale prova di quello che dice. Questo riuscì a mandare un fax da Bari, Francia Bari tipico. Poi, praticamente, l'ha ricevuta con le firme di Sismi. Perchè era un miliardo, no? E allora gli ho diseguito. Gli ho diseguito. Gli ho diseguito. Poi dopo ho saputo dal Sismi che era stata un'operazione dei servizi francesi che allora i quali per tali per tali. E siccome per prima cosa scrissi al presidente Trantino, che era il presidente di Telecon Serbia, gli scrissi una letterina dicendo Caro Trantino, quel tale che voi cercavate, perché questo prima aveva dato, si era presentato con un altro falso nome, dicendo questa storia dei sacchi di diuta, però una volta non aveva parlato di politici. E loro, la commissione Telecon Serbia, cercavano di sapere chi era questo. E io mandai una lettera dicendo, caro Trantino, questo è un mascazzone, un provocatore, comunque ti posso dare le vere generalità che ho accertato. Si tratta di tali, di certo e zero. Mando questa lettera e per scrupolo la do anche alle agenzie di stampa. Sicché la sera stessa, il giorno di settembre del 2002, tutti i giornali hanno la notizia di agenzia che io ho detto a Trantino di questo piano. Allora mi chiamò il mio ex direttore della stampa, Marcello Sorgi, mio vecchio amico. Mi chiamò tutti amici, con cui ho passato una vita, con cui ho mangiato al ristorante, pranzo e cena, con cui ci siamo visti in mille occasioni, Ezio Mauro, Marcello Sorgi. Mi chiamo Marcello, mi disse con voce imbarazzatissima, Paolo senti ma noi allora domani pubblichiamo questa storia di questo Zagami. Questo Zagami, ma che storia devo pubblicare? Non c'è nessuna storia, perché questo è più voleva da scrivere le cose che non ho scritto. È un mascazzone che io l'ho denunciato, non vedo comunque pubblicare. Tu mi autorizzi a dire che è un mascazzone? Ma è chiaramente un mentitore, un provocatore. Posso scriverlo? Posso scriverlo? Posso scriverlo? L'indomani mattina non esce solo la Stavola che esce con due pagine, con titoli in prima pagina così, ma Repubblica tale e quale, come l'ho fatto con l'intervista di vita, esce due pagine, Bonini, Davanzo, altrimenti tutta la compagnia principalmente loro, i quali raccontano il fatto che io durante il mese di agosto ricevevo passivamente queste delle fatte, ma anche molto divertenti. Adesso io le racconto, le racconti, le racconti. E facendo credere ai propri lettori che io avessi scritto degli articoli dicendo che Fassino e questo amorevole, ma di cui ignoravo pure l'esistenza, avessero preso i sacchi di Hitler e i giornali non erano ancora arrivati nelle edicole, gli edicolati che si trovavano ancora tagliare, spaccare i pacchi della pubblica della stampa, già le agenzie di stampa erano inondate di vehementi richieste per vergogna, dimettiti, dimissioni immediate, vergogna, il santo si deve dimettere, di Gavino Angius, Anna Finecchiaro, Luciano Violante, e io anche in quella occasione sperimentai quanto sia inutile trovarsi dalla parte del bene, del vero, che uno sa come sono andate le cose. E' perfettamente inutile. A chi lo dici? A chi lo racconti? Sì, lo raccontavo sul giornale, lo diceva l'agenzia, e quella fu la prova uguale, identica all'intervista di lui, non è la nascita. Tal e quale. Però lo avete lì, con il moltificatore, con il morto, con il fine concetto. Quindi il bravo Walter Piedri, perché aveva preparato tutti questi dossier su Scaramella, Olegio Gordieschi è convinto, e anche Guardi Skorodowski, e credo anche a Skodragliari, perché loro rispecchiano i loro rapporti con, ripeto, la vera che ti dico a Skodragliari, che la trappola deve suscitare, o meglio un incontro, era una trappola delle due, morto.